E sono tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in un nuovo video. Oggi giocheremo a... dove sta? Eccolo qua. Stalkball, sfondo alle piattaforme. E' come dire, io sono ossessionato di questo gioco. Infatti ieri sera era mezzanotte e io mi sono messo a fare i livelli. E volete vedere a che livello sto? Tutto per voi, tutto per voi raga. Guardate a che livello sto. Livello 100, livello 101, in mezzo 100 e 101. E nel video di oggi arriveremo a 147. Non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo. Allora, prima di iniziare voglio dirvi iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e lasciate like. Adesso sì che possiamo iniziare. Ma guardate la maestria proprio. E non è facile? E non è facile. Porca puttana, raga. Ma è difficile adesso, raga. Ma comunque ammettetelo, sono bravo. Completed. E sono bravo, eh. Ah raga, se qualcuno di voi ha questo gioco, scrivetemelo sotto ai commenti a che livello siete. Io ho livello 102, 103, 104 volevo dire. Sono molto curioso a sapere a che livello siete. se lo volete scaricare. Se lo volete scaricare, il gioco si chiama Stalk Ball, spion... Ma non mi ricordo. Stalk Ball sfonda le piattaforme. E terzo ed ultimo tentativo, Stalk Ball sfonda le piattaforme. Stalk Ball sfonda le piattaforme. C'è raga. All'ultimo son morto, all'ultimo! Sono morto all'ultimo E sono morto ancora Mannaggia lo spirito di Steve Jobs Il Mamon Lupertana, mannaggia Oh, livello 104-105 Sì, proprio a 147 No, ma vediamo a che riusciamo ad arrivare Perché non voglio fare un video troppo lungo Perché ho pure lo spazio insufficiente Ragazzi, scusatemi, ha le voci dietro E sono morto di nuovo Ninù, patto di cioccolata Scusate le voci casuali Parlano a vacanto E sono pure morto di nuovo Ho cambiato stanza perché di là ci sono i mammoni Che danno fastidio, parlano E l'ho vinto Livello 105-106 Ma comunque sono il king di questo gioco Ve l'ho detto Mi sono ossessionato di questo gioco Perché ho detto che ero il king Sto morendo adesso sempre Comunque E la cosa non va bene Vai qui tutto vuoto Non è tutto vuoto Fottutissimo Sto vincere Sono morto di nuovo Raga adesso Mi sto infilando Perché come è possibile che il king perde Non ho attivato la fotocamera Perché non mi va Devo guardare il gioco E poi guardare la fotocamera Guardare il gioco E perdo Finalmente livello 105-106-107 Volevo dire Raga quanto mi furio Raga a settembre ci saranno meno video Perché devo studiare Comunque Fottutissimi Video di merda Dopo vedo se riesco ad editare qualcosa No Basta raga Non voglio farlo Oh Sono morto di nuovo Bastardo Gioco del cacchio Ragazzi Ragazzi Comunque in settimana Ci sarà tutta una diretta Dedicata a questo gioco E faremo anche qualche altra cosa Non lo so Non so se attivanti cosa faremo Bastardo cesso Cornuto pezzo di merda Youtube censurami il canale se vuoi No no Non scherzavo Non mi censurare Non mi censurare Sì A collegare Proprio Andare con uno Per sportare Si fa Porca puttana Siamo ancora A pochissimo C'è Dalla fine Siamo ancora A tantissimo Dalla fine Noi ci muovete Nella Vado piano Ragazzi Sto morando Dall'infamità Proprio Infamissimo gioco Infamissimo livello Infamissimo tutto Pezzo di puttana Gioco del cacchio Quindi chi va piano La lezione Chi dice il king Perde Se questo video Arriva a 27 visualizzazioni Vi porto Una live Tutta dedicata A questo gioco Perché Devo pure Pur arrivare a qualcosa Per capire Che voi Visualizzate Questo video C'è Per Supporto Per fare La live Per questo gioco Perché se non vi piace Questo gioco Mettete caso Che non vi piace Io che la faccio A fare La live Quindi Arriviamo A 27 visualizzazioni Perché Se dico I like Nessuno Me li lascia Tanto Ci siamo Quasi Ragazzi Scusatemi Che a volte Sto muto Che non parlo Ma Sono concentrato Sto pure sudando Nero Per fare Questo livello Fottuto A livello Ci siamo Quasi Finalmente 107 108 E non è una Passeggiata Perché a volte Ci sono i livelli Facili E i livelli Difficili Ma non è detto Che io non lo passi Anzi Perché mi sembra Anche abbastanza Facile E va Tirò passato 108 109 Porca puttana Porca puttana Questo è difficile 108 109 Ragazzi Arriviamo A 120 E basta Ah raga Io ho più Forse Dopodomani Perché adesso Un pochino Di riposo Perché io non carico Video sempre Vi porto Vi porto una live Non so Ma parlare Non so più parlare Volevo dire Forse forse Dopodomani Vi porto una live Su SS 2019 È un gioco di calcio È un gioco di calcio C'è una Sì una live Non un video No Ah no raga No Non una live Perché Lascio l'energia E una volta Che ti finisce L'energia Basta Poi ci beccherà La pula E in un tribunale Mi prendo Tutta la Gnaglia Che c'è Nella Abbondanza Dobbiamo Cambiare La corsia Perché Stiamo andando Incontro Ma In autostrada C'è la coda Perché Un vestito Una mimosa Poi ci beccherà La pula Ragazzi C'è Devo dirlo All'inizio Questo gioco Sembrava Difficilissimo Ma alla fine Si Dimostra più facile Del previsto Ma allora però Facile Perché Sa giocarci Mamma mia raga Quanto vacchio È difficile Porca Non diciamo Non diciamo Per ulacce Ma dico solo Porca puttana Ok Ho detto Finalmente ho vinto Di 9 109 110 Porca miseria Porca miseria Maremma maiala E' una schifa Perchè su pietro game Non ci sono ancora Così tanti iscritti Ce ne sono solo due Quindi Lo carichero Su pietrofabrizio90 Poi quando arriveremo Agli stessi iscritti Che siamo Sul canale Pietrofabrizio90 Tutti i video Di questi giochi Eccetera eccetera Tutti quanti I video dei giochi Spariranno da quel canale E verranno ricaricati Tutti quanti Tutti quanti Io quindi Dovrò fare un bordello Alcuni file Non li trovo Quindi alcuni Li dovrò rimanere A forza su pietrofabrizio90 Quindi Un giorno Che avremo Iscritti Faremo Come dire Sposterò Tutti i video Da questo Da Questo canale Che sto caricando il video A pietro game Io già lo so Adesso Questo video Per l'impegno Che ci sto mettendo Lascerete Dislike Io già lo so Accipicchia 19 minuti E siamo ancora A 112 Comunque raga Voglio ammetterlo Non sono così tanto Il king Livello 112 113 Ok Livello 113 114 Troverò Ad editare Qualcosa Con il pc Vediamo Che cosa Esce fuori Ragare Riguardo Volevo Avvisarvi Riguardo Ai video Di Di Granico Con una mod Di outfit Non li Caricherò Mai Sapete Perché Perché Mi si è rotto Il telefono Dopo Avevo installato La mod E questo telefono Non è compatibile Con la mod Non me la installa Dovrò provare Se me la installa Magari Ci farò Un video Livello 115 C'è Dove 116 Perso Fallito Fallito Da Pallo di fuoco Pallo di fuoco E livello 116 117 No Raga No Ho Perto Lo ammetto Io non sono il king 117 118 Yeee 118 Dai questo qui è abbastanza facile Non ho fatto le live Perché ci vuole internet In questo caso Non mi va di Connettermi a internet Non mi va di Sono morto e bene fa nulla Perché ovviamente io non sapevo Che quella palla di fuoco Mi avrebbe abbandonato Proprio in quel momento Livello 120 121 Che facciamo Ce lo giochiamo O non ce lo giochiamo Vabbè Giochiamoci L'ultimo livello Siamo morti di nuovo Siamo morto e nuovo Miochiamo Miochiamoci E ok ragazzi, siamo arrivati al livello 120 la prossima volta, forse quando arriveremo a 120 visualizzazioni ci faremo da 120 visualizzazioni quest'altro. Quando arriveremo a 127 visualizzazioni ci facciamo una bella live e arriveremo a 200-230 perché adesso, cioè se arriviamo a 127 visualizzazioni io vi porto una live su questo gioco e arriviamo al livello più alto possibile. Ma adesso però io, quando concluderò il video, torno a giocarci perché devo dimostrare di essere il king che ci so giocare. E quindi niente raga, devo terminare anche perché spazio di archiviazione in esaurimento, non vorrei che questo spazio in questo momento è niente. Il video di oggi si conclude qua. Iscrivetevi al canale di Pietro. Cliccate il tasto iscriviti per farlo proprio esplodere. Attivate la campanellina, lasciate like e noi ci rivediamo nei prossimi giorni. E' da Pietro, scusate, è il gioco che abbiamo giocato, goodbye and enjoy, statevi bene. Ciao!